Ciao a tutti, come state? Spero stiate tutti bene, io un po' meno come sentite. E vi chiedo scusa se non sono tanto presente, ma sono davvero incasidata. Lavoro, trasloco, che è finito fra virgolette perché ho ancora la cantina piena di scatoloni, ma mi mancano ancora dei mobili, è un po' alla volta, dai. Li trovo tutti io, i geni, anche il dottore, sono andata mercoledì, gli ho detto dottore così e così, e lui dice, ah bisogna fare il tampone, gli ho detto ok, facciamo il tampone, è giusto, però io mi conosco, è solo un grosso raffreddore perché il lavoro è freddo, dice che il tecnico non viene a riparare il riscaldamento e siamo messi così. Mi dice, lavora lei il weekend? No, allora è lunedì, ho detto no, mi di almeno fino a martedì, faccio la settimana, ah no, no, dice, c'è sabato e la domenica e così si riposa, lunedì è in forma per tornare al lavoro. Ecco, così per lui sono in forma, sono andata a lavorare oggi. Così, eh. Tra il lavoro, tra... e i documenti. I documenti che non so come fare, non so come fare perché poi un altro che li trovo tutti io, chiamato in ambasciata, non so neanche se chiamarlo coglione non rende proprio l'idea, forse l'idea è genio. Il genio di turno gli ho spiegato che in settembre mi sono ammalata, stavo male e non ho... non è che non ho pensato. Non... la mia testa non era assolutamente per... eh... i documenti. E fatalità... scadevano tutti in settembre, tutti, tutti. Gli ho detto... sì, non sapevo di questo aeree, non sapevo, io sono venuta qua, ho trovato lavoro, ho cercato lavoro e tutto quanto, non sapevo. Ho guardato per iscrivermi e mi dicono di mettere un documento d'identità valido e io non ne ho. Gli ho detto per favore, è Natale, ho tre figli in Italia, per favore. sapete cosa mi ha risposto? Che è un mio problema. Che è un mio problema. certo, io non volevo riversare su lui il mio problema, ma il suo lavoro è aiutare la gente, gli italiani all'estero, a risolvere i problemi. faccio anche fatica a parlare. E... E così per cui, tra lavoro, mi sono ammalata di nuovo. Corri avanti e indietro, il pensiero dei documenti, il pensiero che quest'anno l'azienda per la prima volta chiude quasi dieci giorni a Natale. E sono obbligata a stare qua. E vabbè, dai. E così. Ti ringrazio tutti, ma tutti, tutti, voi non potete capire quanto. Per i messaggi che mi arrivano tutti i giorni. e allora io dico, eh, allora oggi lo faccio, ma poi oggi succede che devo fare delle altre corse o che torno dal lavoro, mi sdraio sul divano e magari prendo sonno mezz'ora e... E poi mi sveglio e... E sistemo un po' casa, preparo da mangiare e tutto quanto. Ma adesso ho detto, ok, prima di farmi la doccia, mettermi in tenuto da sera. Ho detto, ok, ho detto, lo faccio. Perché è giusto. Ecco qua. Per quanto riguarda la super falsa, non l'ho seguita tanto, perché... Perché la mia testa era altrove. Ho solo seguito una live che mi ha fatto inviperire dove diceva, parlava con uno youtuber non è che parlava con uno youtuber parlava di un youtuber che non faccio nome perché non lo seguo non posso dire A perché non... non conosco i suoi video, non conosco lui, no... e diceva che questa persona ha fatto due live scandalose e lei si... dissociava. Questo gli ha spiegato che l'ha fatto per difendere la sua famiglia che era stata attaccata figli e moglie e lui si è difeso così. Non so cosa ha detto. perché non ho visto queste live e... e lei convinta ma convinta questa faccia di bronzo che ha convinta mi diceva no hai sbagliato i modi perché vedi io sono anni che vengo attaccata vengo diffamata vengo di qua vengo di là hanno attaccato hanno attaccato anche i miei due bambini che non ci sono più eh... però bisogna sempre reagire a quel punto là io ho detto volevo scrivergli telefonargli avrei trovato il numero in ogni caso e dirgli scusa ma con che cosa prepari da mangiare con che cosa eh... magari eh... le spezie che usi in quale vita parallela vivi perché vorrei tanto provarci anch'io allora se mi dai nome o eh... o che cosa usi vorrei tanto provarlo anch'io perché vorrei anch'io vivere in una vita parallela come la tua dove i miei documenti si rinnovano da soli eh... dove la casa si finisce i scatoloni si svuotano eh... vorrei tanto anch'io perché ti ricordo che tu hai augurato la morte a destra e a sinistra e in ogni luogo hai augurato la morte a un minorenne ne hai detti di tutti i colori a grazia quando eh... c'è stato insomma c'era un battibecco io non voglio dire eh... non voglio tornare sull'argomento tuo marito gliene ha detti di cotte di crude hai infangato lei il fratello la famiglia eh... gli abitanti i propri napoletani per tutti e tu hai detto hanno attaccato i miei bambini che non ci sono più e qua ti correggo perché intanto i tuoi bambini non sono mai esistiti ma non è giusto dire che non ci sono più perché ci sono perché eh... tu non hai mai avuto un raschiamento tu hai detto che i tuoi gemelli sono stati assorbiti dal corpo da chissà quale organo per cui da qua da qualche parte lì dentro sperduti in questa vastissima zona dei tuoi organi interni ci sono da qualche parte perché se non sono stati espulsi da qualche parte sono ancora là per cui prima di parlare pensi che la gente si sia dimenticata le live che dopo avrei cancellato dove Davide Mato eri fuori di testa dove sei impazzita tu la suocera tuo marito e poi tu punti il dito verso uno che perde le staffe anche lui per difendere la famiglia io premetto non voglio difendere nessuno perché non so chi sia questo e non so cosa ha detto però io non dico a un altro guarda stai parlando male non si capisce col naso e quando io non sono neanche in grado stasera di pronunciare bene le parole allora prima di incolpare qualcuno devi guardarti te stessa fa il sonno dei miei stivali tutta la tua boria la tua arroganza è quello che la gente odia la tua arroganza è la tua faccia da cattiva nella tua faccia è impressa la cattiveria perché quelle due pieghe che hai ai lati della bocca io le ho viste solo nei film quando truccano truccano però qualcuno da cattivo quando deve fare proprio la bestia tu sei al naturale così ecco perché quando lei dice io sono qua e fa il segno alto e voi siete qua raso terra io 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 falsa sborona primo se eri veramente così come dici tu con le bolz come dici tu un uomo te lo uomo però con la u maiuscola u te lo saresti trovata nella vita reale e non su quelle tamayo di badu perché badu tradotto in italiano vuol dire col secco va bene che tempesta basta che respirano questo è badu tutti e due li ha trovati là perché logicamente lei ha bisogno di qualcuno che riesca a sottomettere per fargli fare di tutto l'avete mai vista quando fanno i traslochi i grandi lavori lei filma e coglionazzo lavora oppure si fa venire gli attacchi di ansia finti gli attacchi di panico inesistenti e il mal di ginocchia che non esistono e lei se la passa così mangiare dormire scorreggiare e ruttare ecco questa è la grande io grande io scorrezona e questo avevo visto quella là che proprio mi ha fatto e poi vedo su instagram live sul mio canale ora subito ma chi cazzo sei ora subito venite oh puoi farle anche 3000 live sul mio canale ne hai 84 mila di iscritti finti come mai solo 12.000 ti guardano e che tra questi 12.000 ci sono parenti cugini di quinta sesta settima generazione fake tuoi di tuo marito di tua suocera di tua mamma falsa intanto vedete il mio angolino di natale il mio bellissimo babbo natale lo adoro l'ho preso dieci giorni fa e la stela di natale che era anni che non ne compravo una e l'alberello così intanto si nasconde un po' quell'angolo che mi fa da ogni tanto mi dimentico le parole in italiano da una specie di dispensa finché non finisco i mobili è così aveva fatto il video finto vi ricordate che piangeva io vi dicevo sono finta quelle lacrime non ci credo io non ci credo e non ci crede nessuno basta lasciatemi stare basta dissing poi due giorni dopo perché lei è ignorante perché ignorante è proprio raso terra ma è calcolatrice no furba lei pensa di essere furba pensa aveva fatto il video chiara d'alessandro è tornata come per dire adesso solo video spensierati come una volta è tornata la chiara d'alessandro di qua era truccata quanto è durata un video due giorni perché poi ha visto che non funzionava ha ricominciato con le live buasta come fa adesso un giorno si e uno no live sul mio canale dove bobby bobby pandoro che quando non si taglia i capelli che non si lava la mattina non si pettina neanche avete visto sembra un fugasone un fugasone sembra che abbia pandoro in testa lei arriva in live con la sua amore e lei parla lo interrompe se ci prova lui è morto bobby solo bobby solo due denti vada e ha visto che funzionano di più le live buasta e ogni sera ne ha una ogni sera lei mette a cuccia tutti ma non ti sei accorta falsa che l'unico che metti a cuccia e che il poro desposente che te che sposà solo lui riesce a mettere a cuccia perché noi no vabbè me ne devi mangiare ancora cara di merendine per mettermi a cuccia ne devi mangiare cara siete ignoranti come la caca ma quella secca però ignoranti è così lei gli ha detto no hai sbagliato i modi convinta oh e poi suo marito fa un minuto di silenzio per le donne vittima di violenza e lui per offendere quando fa le live ha usato tutto il vocabolario ora vi faccio vedere una cosa va guardate che bella il cristallo mi piace ce ne erano quattro due la terza è qua e la quarta è là poi c'è il mio goffetto coi cristallini va bene le mie candele che adoro e questo qua questo piatto con lo specchio sotto e le candele abbinate questa palla che si illumina anche questa guardate che bella questo questo va messo sulla porta devo ancora finire e basta ecco no perché anche prima vi dico una cosa la seconda volta che faccio sto video e mentre vi facevo vedere le cose come vi ho fatto vedere adesso per tornare indietro con la mano che non avevo la mano destra ho schiacciato e si è cancellato tutto ecco là volevo mangiare una cacca e adesso l'ho rifatto e l'ho tenuto con la destra e così speriamo da Dio che si risolva tutto dai io vi ringrazio non sapete quanto vi voglio bene quanto vi fanno bene i vostri messaggi perché io adoro fare i video perché mi sembra di sfogarmi di parlare e così i problemi diventano sono meno pesanti ci mancava anche questo raffreddore potente è già una settimana e sono ancora così ma può essere che è peggiorato un po' oggi perché ieri ho voluto lavarmi i capelli io non riesco a restare c'è sporca non è sporca perché i giorni nostri per essere sporchi bisogna fare come i due individui che si lavano una volta ogni 15 giorni se ci arrivano 15 giorni però mi sentivo di dire aspetta aspetta un paio di giorni ma in questo periodo non lo so perché non lo so sto perdendo tanti capelli e non è come cambio di stagione sono proprio tanti tanti e l'altro giorno ho pianto come perché io ho sempre avuto i capelli lunghi e tanti tanti ricci adesso ne ho pochissimi il dottore dice che a causa del virus di quest'estate non lo so non lo so non lo so non so cosa pensare e allora per quello ho sempre paura e dico siccome sono ricci si si annodano e già ne perdo tanti e quando li lavo e li pettino rimangono tantissimi sulla spazzola loro ho detto li lavo e forse ho peggiorato le cose stamattina sono andata a lavoro e la fa freddo vabbè dai vi auguro una buona serata vi auguro tanto bene vi voglio bene veramente grazie per tutti i messaggi grazie 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 questi li ho messi sulla finestra e anche sulla finestra di qua ci sono sono bianchi però da fuori li ho messi sono tutti glitterati belli perché ho cominciato presto a nevicare quest'anno è già la terza quarta volta che nevica vabbè dai spero di risentirvi presto tutti grazie mille un bacione ciao ciao